Riflettere su un battesimo importante nel Nuovo Testamento. Ho scritto qui il battesimo dell'Etiope, il Vangelo per l'Africa. Se leggiamo il racconto di Pentecoste, c'erano dei credenti, tipo dalla Tunisia, da quella zona lì, Egitto, però da quel che sappio non c'erano delle persone presenti dall'Africa, dal continente stesso. E qui troviamo, vorrei leggere brevemente questo brano, Atti 8, 26, dove parla di questo avvenimento molto importante per noi. Un angelo del Signore parlò a Filippo così, Sì, alziti, va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un Etiope, Eunuco, il ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora stava tornandosene, seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo, avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia. E gli disse, capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose, e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato condotto al macello come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. Leunuco, rivolto a Filippo, gli disse, di chi ti prego? Dice questo, il profeta? Di se stesso? Oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Sarà rafferciando, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E Leunuco disse, ecco, dell'acqua che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore è possibile. Leunuco risposto, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e Leunuco. E Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rappì Filippo e Leunuco, continuando il suo viaggio, tutto allegro, non lo vide più. E qui troviamo veramente la grazia di Dio nella vita di questo uomo di Etiopia. Prima vediamo un'anima che era spinta a cercare Dio. Quando vediamo questo uomo dobbiamo considerare che dall'Etiopia era arrivato a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Non sappiamo che se lui era ebreo, che poteva anche essere ebreo, o che si era avvicinato come proselita alla fede ebraica. Comunque aveva già fatto un grandissimo impegno per andare a Gerusalemme per la Pasqua. Lì a Gerusalemme aveva comprato un rotolo, la profezia di Isaia. E adesso stava tornando a casa e leggeva sopra il carro. Io non so, io mi ammalo se cerco di leggere in macchina. Figuriamoci questo sopra un carro che leggeva la parola di Dio. Un uomo che già adorava Dio nel modo che sapeva, ma non era una conoscenza completa. Però era impegnato a conoscere le scritture. Poi troviamo un messaggero, un servo ubbidiente, Filippo. Filippo, che era scelto come uno dei primi diaconi a Gerusalemme, non per predicare, ma per servire. Però Dio aveva portato avanti questo uomo fino al punto che era diventato evangelista. E lui andava in giro parlando di Gesù. E in un certo momento Dio gli ha spinto a lasciare tutto e arrivare in mezzo al deserto. Perché cosa? Non sapeva. Però nel deserto vedeva avvicinarsi un carro con un uomo sopra. E più che si avvicinava, sentiva che quest'uomo leggeva a voce alta dal suo carro. Così si avvicina a quest'uomo. Sale sopra e dice, ma capisci quello che tu stai leggendo? E dice, ma come posso capire se qualcuno non mi aiuta? E così Filippo prese a parlare, dice, da quel brano stava leggendo la profezia di Isaia. Pensate, il capitolo 53, in una profezia scritta 700 anni prima di Gesù, spiega in modo incredibile la crocifissione del Messia. I romani non avevano meno inventato la crocifissione ancora, ma c'era già scritto. E quindi lui leggeva questo brano, mi dispiace non abbiamo tempo di leggere tutto il capitolo, è un capitolo bellissimo, però stava proprio leggendo queste parole. Egli è stato condotto al macello come una pecora. Come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. Poi in quel brano dice che lui, questo Messia, è morto al posto del suo popolo. Ha preso su di sé i loro peccati. E quest'uomo fu colpito da questo messaggio e ha creduto. E lui capiva abbastanza della fede cristiana, perché forse anche a Gerusalemme aveva visto qualche credente in Cristo Gesù. lui ha detto, ah no, c'è l'acqua lì, che impedisce che il mio battezzo? Quindi aveva già capito che un cristiano, un credente che crede in Gesù, il primo passo di ubbidienza è la testimonianza pubblica. Il battesimo non ci cambia. Se siamo peccatori e senza pentimento, l'unica differenza è che usciamo fuori bagnati. Ma non è cambiato niente. Invece lui aveva capito il significato di io credo, io voglio essere battezzato. E lì c'era acqua. Filippo dice, se tu credi con tutto il cuore. Quindi noi non accettiamo Gesù come una piccola parte della nostra vita. Sì, sono cristiana domenica mattina per un'ora, e poi lo resto della settimana chi si è visto, si è visto. No. Quando crediamo che Gesù sia morto per noi, quello ci cambia la vita. E dedichiamo la nostra vita a Lui. E qui dici, se tu credi con tutto il tuo cuore, lo puoi fare. Leonoco rispose, io credo che Gesù, Cristo, è il figlio di Dio, che poteva dire di più. Sapete che nella chiesa primitiva, nel primo secolo, avevano un simbolo segreto per identificarsi come credenti. Era il simbolo del pesce, vi siete mai chiesti, vedi qualche macchina, c'è il pesce, speriamo che guidino bene, se c'è quello. Comunque, la parola greca per pesce, ikfus, prendendo ogni lettera da quella parola, possiamo formare le parole Gesù, Gesù, Cristo, di Dio, il figlio, e Salvatore. E quindi, non volendo, quest'uomo, nella sua confessione di fede, ha detto, io credo in Gesù. Gesù che vuol dire? Yahweh che salva. Io credo in Gesù. Yahweh che salva. Io credo in Cristo, il Messia, l'unto dell'Eterno, credo che lui sia il figlio di Dio, cioè la seconda persona della Trinità, padre, figlio, Spirito Santo. Non ha messo Salvatore, come hanno messo i cristiani, però ha detto tutto. Quando ha detto così, io credo. io credo. E credere vuol dire riposarsi completamente nella grazia di Dio. A quel punto non cerco più di fare, devo fare, così Dio mi guarda bene, mi ripaga il raccio. No, io mi riposo in quello che Gesù ha fatto per me sulla croce. Come tutti i nostri fratelli e sorelle che oggi ci sono battezzati, hanno dato una testimonianza di fede di quello che Gesù aveva fatto nella loro vita per portarli a questo momento. Dire sì, io credo che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, il mio Salvatore. Così, fermano il carro, dice, discesero tutti e due nell'acqua. Guardate, non è stato come qualche quadro si vede in giro quando stanno nell'acqua e uno prende un po' di acqua e fa così. No, non è stato così. Perché la parola greca baptizzo vuol dire immergersi. È una raffigurazione di quello che Dio ha già fatto nella nostra vita. Abbiamo creduto in Gesù, siamo morti morti al peccato, siamo stati seppolti con Gesù, siamo risuscitati con Gesù e adesso vogliamo vivere per la sua gloria. Questo è quello che vuol dire il battesimo cristiano. Chiaro, un bambino non può capire queste cose. Noi non possiamo fare la scelta per qualcun altro. Ognuno quando crede, dice nel Nuovo Testamento, crede, cioè ascolta, crede e viene battezzato. A un certo punto succede una cosa crudele che Dio ha fatto. Questo che aveva professato in quel momento la sua fede si sarà attaccato a Filippo in modo grande perché era stato Filippo a spiegargli completamente la salvezza però appena battezzato Dio lo porta via e lui deve andare avanti da solo. Deve tornare giù in Etiopia da sola da solo per poi essere una luce lì per il suo Signore. Ma anche Gesù ha fatto così. Qualcuno essendo guarito ha detto a Gesù fammi stare sempre con te e Gesù dice no tu devi andare a casa e devi dire ai tuoi quello che Gesù ha fatto per te. E così questo uomo tutto solo ma con Gesù che quando siamo soli se siamo con Gesù non siamo mai soli è tornato a casa e da lui è uscito fuori una grande testimonianza di fede in Cristo Gesù e probabilmente in Africa oggi ci saranno più cristiani in qualsiasi contena del mondo è vero è incredibile che è quello che è nato proprio con la testimonianza di un uomo. noi avendo ascoltato le testimonianze arriviamo proprio alla conclusione del nostro tempo insieme noi crediamo come dice in Atti 2 dice quelli che hanno accettato la parola si sono battezzati e poi dice che erano stati ferventi e hanno rotto il pane insieme e quello parla della comunione il tavolo del Signore e quindi noi siamo felici perché noi crediamo che finché una persona non fa il passo di fede nel battesimo per immersione veramente non dovrebbe nemmeno partecipare nell'altro ordinamento che il tavolo del Signore però oggi lo facciamo e per con i suoi fratelli sarà la prima volta insieme a noi e motivi di grande gioia vorrei dire se tu sei con noi stamattina e hai accettato Gesù Cristo come tuo Signore Salvatore e se tu in un'altra comunità hai seguito il Signore nel battesimo per immersione come testimonianza della tua fede tu sei benvenuto a partecipare con noi noi non passiamo a bere se c'hai la testa o non c'hai la testa però dico solo questo se tu ancora non hai creduto in Gesù come tuo Signore se tu non hai avuto ancora la possibilità di seguirlo nel battesimo per immersione come testimonianza della tua fede ti chiedo di passare avanti il pane e il vino di non partecipare non per noi ma per voi perché Dio dice chi fa questa cosa in modo irreverento in modo non giusto si recca una condanna maggiore nel frattempo diceva allora che ci vengo a fare se non posso partecipare tu guardi tu ascolti perché la parola di Dio dice che questo è un momento importante anche per te perché vedrai come noi crediamo che Gesù è morto sulla croce per noi è quella che commemoriamo e l'altra cosa che commemoriamo è che Gesù andando via ha promesso di tornare perché Gesù ha detto ai suoi dicevoli dice fate questo finché io venga e quindi è anche una testimonianza tu puoi assistere e dire veramente queste persone credono a queste cose e magari tu un giorno dirai anche io puoi seguire Gesù così preghiamo padre ti loro ti ringrazio per la tua bontà la gioia insieme di ascoltare la tua parola i nostri cuori sono stati veramente commossi a sentire le testimonianze di fede stamattina di questi nuovi seguaci di Gesù questi nuovi discepoli di Gesù prego che questo tempo che passiamo il pane e il calice possono servire in questo momento possono servire per tutti noi a riflettere su quello che Gesù Cristo ha fatto per noi sulla croce e che possiamo tutti quanti arrivare a dire sì Gesù anch'io ti voglio seguire nel nome di Gesù Amen